Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video, siamo qui oggi pronti e carichi per un altro episodio, andremo a fare altre missioncine secondarie, come potete ben vedere andremo a fare questa varie, raggiungi questo luogo, la fortezza di Valtheim e uccidi il capo dei banditi. In pratica andremo praticamente qui, ora vi faccio vedere la fortezza, faremo tutta quanta questa strada, andremo nella grotta qui che avevo fatto un video al riguardo, prenderemo e sbloccheremo la zona della pietra, un'altra pietra guardiano che si trova più o meno qui, andremo a sbloccare anche l'accampamento dei manto della tempesta se non ricordo male che si trova sempre qui, e poi andiamo alle torri, alla torre appunto, uccidere il capo dei banditi, completare la missione in modo tale che abbiamo sbloccato anche una buona parte della mappa e poi ci possiamo dirigere forse in qualsiasi altro posto che può essere, ad esempio, una Winterhold per iniziare la gilda dei maghi. Sven! Sven, dove diavolo sei? Ogni volta non posso stare qui e fermarmi perché non trovo il... eccolo. Allora, forse noi non ci siamo capiti, forse, ripeto, non ci siamo capiti noi, ma lo capisci o no che stiamo in una difficoltà ardua che qui appena noi camminiamo ci scoppiano? Io ti conosco. Eh, io no. Ah, proprio così, mi dici che mi conosci e poi te ne vai con la tua fiaccola. Sven, ma tutta quella gente lì giù, penso che siano dei banditi, è meglio scappare. Ragazzo, fuggiamo, che quelli ci ammazzano. Distilleria, intanto abbiamo sbloccato questa zona che ci può far sempre comodo, eh. Lo sbloccare parti sulla mappa e quei tizi intanto che ci inseguono. Scappa, figliolo, scappa! Oh mio Dio! Oh mio Dio, a guardare Sven, mannaccia a te, mannaccia che... Però, grazie, avevo capito che c'era qualcosa che non andava perché mi sono chiesto nella mia mente il motivo per cui hai cacciato l'arco. Poi ho capito, giustamente, perché si stava avvicinando qualcuno che poteva uccidermi. Infatti il luogo mi ha zannato nella schiena e mi stava veramente ammazzando. Saliamo per di qua e andiamo e sblocchiamo l'osservatorio del fiume bianco. Nuova scoperta. Uccidiamo questi banditi. Mamma mia, i danni. Però anche noi, veramente, infliggiamo i danni e li facciamo i nostri danni. Nota per Rodulf, la prendiamo. Loro. Lì ci sta il baule. Ricordiamolo, uccidiamo prima questo arcere qui che ci crea solamente fastidio. E l'abbiamo bruciato proprio perfetto. Che poi non so perché ha lasciato il coltellino se aveva in mano un arco. 10 punti di magica, l'amuleto di Giulianos. Bellissimo, lo mettiamo. Perfetto, che ci serve per aumentare appunto i nostri punti magica che sono essenziali, visto che stiamo facendo il mago. Perfetto, vediamo cosa c'è di buono dentro. Loro, pozione di cura minore. Qui formaggi e vari ortaggi. Sven che passeggia libero e beato. Qui nulla. Entriamo verso l'osservatorio. Allora, qui facciamo la conoscenza, ripeto, di Ulfr. Il cieco che ci dice e ci chiede se siamo noi Rodulf. Noi diciamo è morto e tu sarai il prossimo. Uccideremo questo povero signore. In modo tale che, non lo so, facciamo molto a più esperienza. Intanto qui ragazzi ce la siamo rischiata, eh. Ce la stiamo rischiando. Ma questo bandito cura. Curiamoci. Curiamoci che ci sta il mago. Il mago lì. Fiamme. Vai, vai, brucia. Mamma mia ragazzi. Mamma mia come stiamo gestendo la situazione in una maniera perfetta. Attenzione che qui ci sono infatti altri nemici. Questo addirittura con i fulmini che leva tantissimo. Più che altro ci infligge anche i danni che lui ci infligge alla vita. Ce li infligge anche alla magica, eh. Usando scintille. Benissimo. Sven è diventato un arciere professionista. E a noi questo ci piace. Qui ci sta nascosto un baule con dentro nulla di interessante. Una spada orchesca se vogliamo darla a Sven. Qui, allora, arrivati qui ci sta il cane lì dentro e l'uvo più che altro. Se noi apriamo questa catena, lui esce e ci aiuta a combattere i vari nemici. Poi noi ci mettiamo qua e bruciamo praticamente tutto quello che ci passa davanti. Ovviamente li abbiamo accerchiati, li abbiamo messi qua in questa trappola mortale ad arrostire come spiedini. Non lo so, sul fuoco. E c'è un pezzo di pane. C'è questo arciere che mi sta lanciando le frecce nella testa. E deve morire se non muoio prima io. Perfetto, curiamoci, mettiamoci qui dentro. Dentro la gabbia del cane. Ah, qui c'è anche una pozione, mi raccomando, prendetela. C'è quel cadavere lì che, se non ricordo male, dovrebbe avere qualcosina che ci può essere utile. Quindi vi mettete qua, saltate e cercate più che altro di prendere, cioè di cliccare X nel momento giusto. Olè! Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Loro, mazza, perfetto. Solo per l'oro abbiamo fatto un salto di 150 metri e ci sono un grappaio a quella gabbia per 8 pezzi. D'oro. Straordinario proprio. Proprio ne è valsa la pena. Ora usciamo verso il punto di osservazione del fiume bianco e a cercare di andare a uccidere il capo, il boss di questo luogo. Eccolo qui. Fiero, bello. Ajvar. Non bruciamo Sven. Stiamo attenti. Diamogli fuoco dall'alto. Dai però Sven, colpiscilo però, eh. Cioè non ci far fare tutto a noi, darci una mano. Mamma mia. E recuperare quello che c'è da recuperare come la borsa di monete. Questo bellissimo baule. Al metista, l'oro, pergamena, collana e zaffiro. Abbiamo pure questo anello. E gli stivali di cuoio li possiamo lasciare anche lì dentro. Ci scendiamo da qui senza, sperando di non spezzarci le gambe. Sven non so come farà, sicuramente si teletrasporterà. Perché lui ha imparato il teletrasporto. Non si sa dove. E proseguiamo e andiamo avanti. E lì sopra, amici miei, ci sta, oh mio Dio, i lupi intanto che mi azzannano da dietro. Che levano tantissimo, levano. Anche noi però facciamo i nostri danni. Veramente, lo devo ricordare che non è che siamo proprio così scarsi che non infliggiamo nulla. Sven si è perso, come sempre. A me mi serve perché qui sopra ci sta un mago che ci distrugge se non viene anche lui. Perfetto, eccolo lì, lontananza che ci sta seguendo. Arriviamo qui. Dai, su, Sven però! Mamma mia, i lupi lo accerchiano e lo ammazzano. Vieni qua, Sven, aiutami con questi lupi. Sven, Sven, per favore. Ok, perfetto, bravissimo. Stiamo attenti, ci hanno fatto una guada, è un branco intero. Madre, figlio e zio. Mamma mia, aggressivo il ragazzo, aggressivo. Ora vieni qua che ci sta un mago che, se non siamo attenti e non facciamo il gioco di squadra, ci spacca la testa e noi moriamo come dei fessi, dei fessi e dei cretini. Dov'è il mago? Eccolo qua. Nascosto dietro alla pietra. Ma no, lo scheletro, il mago! Mamma mia, grandissimo, Sven, non mi sei morto grande. Mamma mia. Vediamo come stiamo. Mamma mia, facciamo schifo, siamo dei pezzenti, però il 75% è veramente qualcosa in più. Qua ci sta la pietra del rituale che a noi non interessa. Abbiamo sbloccato però un punto sulla mappa che ci può essere sempre utile se per caso abbiamo bisogno di un viaggio a veloce in questa zona. Ora però possiamo recuperare queste piantine per fare una tisana al nostro Sven dopo che torneremo da questa battaglia. Prendiamo praticamente tutto e ci dobbiamo però dirigerci ad ammazzare il bandito, il re dei banditi che si trova in quella torre laggiù. Perciò andiamo e prepariamoci. E siamo arrivati alle torri di Valtheim. Nuova scoperta. Strano, ma perché non ci sta nessuno qua fuori? Ah, eccola la signora bandito. Salve! Come va? Morirà bruciata a rosto. Peccato che non è morta vicino a questa zuppiera perché altrimenti potevo mangiarla. No, più che altro Sven se la mangiava perché lui ormai è diventato un cannibale. Ma perché c'è una freccia nel collo, amico mio? Ma sei proprio un bravo arciere però. Guarda, guarda. Non ti conviene salire qui sopra con me e andare a ammazzare un po' tutti quanti a corpo a corpo visto che ti ho dato una spada? Oh no, Sven! Oh mio Dio! Tutti, il capo dei banditi è questo quello forte. Allora, siamo attenti ragazzi miei. Siamo attenti, curiamoci. Mettiamo le fiamme. Intanto il nostro Sven che si tanca praticamente tutto. Non deve morire però. Non morirmi, ti prego Sven. Per favore, amico mio. Combatti però. Mamma mia, attaccalo per l'amor del cielo. No, no, Sven. Mamma mia, Sven mi sta morendo. Andiamo qui, uccidiamo questo, bruciamo questo bandito, vendichiamo il nostro Sven che non è morto però sta lì e continua a lanciare con l'arco e cercare di colpire i nemici dall'altra parte della mappa. Ciao Sven, ma tu ancora non l'hai ucciso quello? Tre ore, sei stato qua da solo e ancora non mi ha ucciso sto bandito con sto archetto da quattro soldi. Ah, perfetto. No, non mi cadere però cadavere, mamma mia. Questo gioco non mi aiuta proprio, mi fa camminare a destra e sinistra e recuperare tutto quanto perché i cadaveri scivolano, cadono di sotto, Sven che stava per morire. Cioè, mamma mia, che ansia. Allora, siamo arrivati qui, siamo andati qui perché dobbiamo riscuotere giustamente la nostra taglia dal segretario appunto del re. Ci deve dare la taglia perché abbiamo completato la missione, infatti il campo dei banditi è morto, il capo dei banditi, e in pratica ci ha dato i nostri bellissimi soldi che ci aspettavano. Io con questo, amici miei, ci salutiamo e vi saluto sedendomi qui e mangiare, non lo so cosa ci sta e cosa offre la casa. Ci salutiamo. Io veramente con tutto il cuore vi ringrazio ad ognuno di voi per tutto quello che state facendo, dai commenti, dai mi piace, dalle condivisioni, dal fatto che vi state scrivendo, il fatto che lo dite ai vostri amici, da tutto quanto. Veramente continuate a farlo. Io vi dico grazie, quindi vi ripeto di lasciare un bel mi piace, un commento, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo quindi ad un prossimo video. Ciao! Ciao!